La faccenda paura. C'è grande eccitazione nella foresta. Si è sentito dire che l'orso ha la lista di morte. Mi scusi c'è il mio nome sulla lista? Sì c'è il tuo nome. La paura e lo spavento stroncano il cervo. Dopo due giorni lo trovano morto e il panico si diffonde fra tutti gli animali del bosco. Ci sono anch'io? Sì c'è anche il tuo nome nella lista. Il cinghiale viene trafitto come un bastone nel cuore così dopo due giorni lo trovano morto. Tutti gli animali cadono nella disperazione. Solo un coniglio coraggioso affronta l'orso. Ehi orso sono anch'io nella tua lista? Certo ci sei anche tu. E dimmi puoi cancellarmi? Certo nessun problema. Nel video che segue per chi non ha ancora avuto modo di imparare gli effetti ottici a pelo d'acqua avete la possibilità di capire cos'è la linea a specchio che riflette la parte superiore delle imbarcazioni e la distorsione nella parte bassa. Buona visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.